Prove generali per il Pescara in vista del match di Coppa Italia di domenica prossima contro il Pordenone. Nella canicola del Petruzzi di Città Sant'Angelo, i biancazzurri di Beppi Pilon superano per 4-0 l'arenato Curiangolana, formazione del campionato di eccellenza che in questa stagione sarà allenata da Nico De Eugenio, il quale raccoglie l'eredità lasciata da Paolo Rachini. Nel Pescara, out l'infortunato del Grosso, oltre al solito Campagnaro e Adelisalde, impegnato in nazionale, riposo precauzionale per Fiorillo, Marras e Macin. C'è Balzano a sinistra, Palazzi completa il trio mediano con Memusciai e Brugman, Mancuso e Antonucci supportano Monachello. Nei primi minuti il Pescara soffre le gambe pesanti e l'intraprendenza della giovane angolana, che insidia in un paio di circostanze castrati. A metà tempo il Delfino accelera e segna tre reti in cinque minuti. La prima porta la firma di Gaetano Monachello, ben servito dalla destra da Zampano, al minuto 25. Dopo tre minuti il raddoppio, il frutto di una bella trama palla a terra che passa per i piedi di Brugman, Balzano, Memusciai e infine Mancuso, il cui sinistro si infila, complice una deviazione. La terza rete è di Memusciai, che raccoglie e sfrutta l'assistenza di Antonucci, trovatosi nella circostanza sul settore di destra. Nella ripresa trovano spazio anche i vari Yamga, Forte e Carcalis. C'è Cocco al centro dell'attacco, che si fa notare a metà frazione con questa incornata che impegna Di Pasquale. Al ventisettesimo spazio anche per Sansovini, al posto di Yamga, applausi per il sindaco dai tifosi presenti, per il loro beniamino in attesa di sistemazione in Serie C, in concomitanza con l'ultimo anno di contratto col Pescara. Un minuto dopo i biancazzurri calano il poker, con la bella torsione di Cocco sul corner calciato da Forte. L'ultimo spunto è quello di Bunino, che cerca di beffare Di Pasquale da lontano, ma il portiere recupera la posizione sventa prima del trepice fischio finale di quella che per ampi tratti è stata una sgambata al piccolo trotto per un Pescara che aveva lavorato anche nella seduta mattutina.